Buongiorno a Leone, il Signore del Giacinato, la parola della nostra via del San Gesù Giulietti Gira, un applauso! Cerchiamo di creare un territorio centrale, sia davanti che dietro San Pietro, per permettere la borsa. Cerchiamo di creare questo territorio centrale. Cerchiamo di allargarci il più possibile, anche dietro San Pietro. Cerchiamo di creare questo territorio il più largo possibile, che si trova dal lato della Canivia in Cuglio Reggi qualche passo. Cerchiamo di creare questo territorio. Grazie! Grazie! Grazie. 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 Grazie.